Ma fondamentalmente Backstage è questo service catalog, ecco possiamo dire che il punto centrale è questo service catalog, è definito developer portal, però fondamentalmente vuole essere l'unico, se non il più importante almeno punto di accesso per gli sviluppatori a tutto il catalogo di servizi e applicazioni che avete, che hanno nel proprio team, per fare appunto quella famosa discovery, che poi si diceva nel panel introduttivo, dei servizi di un team, di una compagnia, di un'azienda, ecco, per vedere un po' qual è lo stato, dove si deve andare per vedere la documentazione, quali sono le definizioni dell'API, come sono interconnessi i servizi, perché naturalmente magari abbiamo un front-end più back-end, o anche soltanto un front-end e back-end, vogliamo vedere quali sono le connessioni, quali sono le API consumate, chi le fornisce, ecco. Quello che stiamo per sentire invece è l'ultimo talk della giornata, quindi inviterei sul palco Edoardo Duzzi. Ehi, eccoci qua, ciao. Ultimo, ma non meno importante, volevi? Assolutamente no, mai meno importante. Giusto. Tra l'altro è un sacco che non ci vediamo, quindi addirittura da ieri pomeriggio, quando abbiamo fatto il podcast, direi... Esatto, come dico, ho anche cambiato felpa, rispetto a ieri sono un po' diverso. Anch'io ho cambiato felpa giusto per dimostrare che non ero vestito come ieri, poi torno vestito come ieri. Esatto. Ti lascerei al tuo talk sempre su Backstage. Ciao. Allora, allora, Backstage, naturalmente sono qua per chiudere questo evento, la cui qualità è stata molto alta, quindi cerchiamo di abbassarlo un attimino. No, no, non è vero, cercherò di fare una cosa simpatica, aspetta che sistemo un po' la definizione di questa slide, ecco. Allora, parliamo di Backstage, se avete seguito l'evento di oggi, avete seguito magari il talk di David Chuit, adesso non mi ricordo bene come si pronuncia, di Rodi, che ha fatto un po' un talk su Backstage, in cui ha mostrato un po' di interview, no? Io faccio un po' un passo indietro, sia che avete visto quel talk, sia che non l'avete visto, perché magari state vedendo questo talk dopo, nel futuro, quando lo vedete staccato, ecco, magari faccio anche un po' un'introduzione, perché non tutti magari sanno che cos'è Backstage, e poi volevo far vedere un attimino quanto sia effettivamente facile installare Backstage, integrarlo con il proprio team, con il proprio catalogo di applicazioni e servizi, in modo da far vedere proprio che la potenza di questo tool è effettivamente bilanciata dalla facilità di installazione, utilizzo e customizzazione. Proviamo a fare questa roba. Partiamo proprio dalle basi, da che cos'è Backstage, però stringo, non vi faccio tutto il discorsone, ma fondamentalmente Backstage è questo service catalog, ecco, possiamo dire che il punto centrale è questo service catalog, è definito developer portal, però fondamentalmente vuole essere l'unico, se non il più importante, almeno punto di accesso per gli sviluppatori a tutto il catalogo di servizi e applicazioni che avete, che hanno nel proprio team, per fare appunto quella famosa discovery, che poi si diceva nel panel introduttivo, dei servizi di un team, di una compagnia, di un'azienda, ecco, per vedere un po' qual è lo stato, dove si deve andare per vedere la documentazione, quali sono le definizioni dell'API, come sono interconnessi i servizi, perché naturalmente magari abbiamo un front-end più back-end, o anche soltanto un front-end e back-end e vogliamo vedere quali sono le connessioni, quali sono le API consumate, chi le fornisce, ecco, questo vuole fare Backstage, darvi un unico punto di accesso in cui una volta entrati trovate tutto, o il più possibile. Quindi è un servizio proprio creato, un prodotto creato e pensato per darvi questa discovery dei servizi del vostro team e per facilitare naturalmente l'onboarding di nuovi membri del vostro team, perché se voi date a un nuovo membro del team un unico login, fate login su Backstage, e da lì questo nuovo membro può vedere tutti i componenti, può vedere le definizioni dell'API, i repo collegati a ciascun progetto, la documentazione collegata a ciascun progetto, e magari può anche creare nuovi componenti utilizzando i vostri template, quindi facendo scaffodi di nuovi componenti utilizzando i vostri template, quindi con le best practice della vostra azienda, ecco che il processo di onboarding è super facilitato, in questo senso. E poi ci assicuriamo anche che un po' tutti i progetti che vengono creati in questi nuovi team abbiano in qualche modo una consistenza e mantengono la nostra qualità, perché se almeno il template di base risulta strutturato come noi lo vogliamo, con dentro i tool che vogliamo, con lo scaffolding che vogliamo, ecco cerchiamo di assicurarci che tutti partano quantomeno da un livello minimo qualitativo che noi abbiamo settato con il nostro team. E poi naturalmente cerchiamo di incrementare la knowledge sharing, la collaborazione tra i membri del team per scambiarsi informazione, aggiungere nuove informazioni, ecco eliminare quella frizione che a volte c'è nel aggiungere un pezzetto di documentazione mancante o cercare quella documentazione che proprio non riusciamo a trovare, ecco e quindi qua magari avere un punto facile per accedere e cercarlo. Backstage vorrebbe essere tutto questo, quindi noi diciamo che siamo abbastanza fiduciosi che Backstage rispetti ecco questa promessa che ci fa. Poi naturalmente Backstage è un progetto nato in Spotify, Spotify evidentemente aveva queste necessità, queste stesse necessità, quindi ha creato questo tool, poi si è accorto che il tool poteva essere di beneficio per tutta la community degli sviluppatori, quindi ha deciso di renderlo open source e di donarlo alla CNCF, la Cloud Native Computing Foundation e oggi Backstage è un progetto, diciamo, hostato dalla CNCF, quindi anche qua il potere dell'open source, rendere open un progetto così e poi tra l'altro anche circondarlo da un catalogo di plugin che ne aumentano poi, vedremo qualcosa, le funzionalità. Allora partiamo. Ho deciso di strutturare questo tool come se fosse un progetto interno, cioè siccome il nostro obiettivo è capire quanto sia facile effettivamente adottare Backstage in un team che non ce l'ha e magari ne ha sentito anche parlare poco, secondo la documentazione di Backstage l'adozione è molto facile, noi ci fidiamo però vogliamo provare, quindi ho strutturato questo tool come se fosse un progetto interno con una compagnia che vuole adottare Backstage e quindi creerò delle issue, dei task da eseguire per portare Backstage dallo step base dell'installazione a quello finale che poi vedremo. Quindi partiamo dal primo, dalla prima issue che ci viene data dal nostro CTO, il CTO di Sparkfabric, qui l'ho scritto con questa sintassi tipo BDD, in cui il CTO di Sparkfabric ci chiede di provare ad avere Backstage up and running, diciamo sul nostro cluster, adesso io lo installerò in locale, però facciamo finta che sia il cluster, poi dopo portarlo sul cluster è a due click di distanza, ecco. Quindi per rispettare questa prima issue dobbiamo avere Backstage up and running. Come si fa ad avere Backstage up and running? Seguiamo la documentazione, quindi qua io faccio esattamente i passaggi che mi dice la documentazione, lancio il comando npx backstage create up, che è da command line, e qui partirà quindi l'installazione di Backstage. Devo dare un nome al mio developer portal e parte tutta l'installazione di pacchetti. Vedete lo scaffolding, passa un po' di tempo per installare i pacchetti su Yarn e quando finirà l'installazione io dovrei, mi aspetto di trovarmi una nuova installazione che posso vedere con Yarn Dev. Yarn Dev non fa altro che far partire i due server, il server di back-end e il server di front-end, perché ricordo che sono due, per chi non lo sapesse, sono due separati, il back-end node e il front-end react. Ecco che parte Backstage. Questo è già il Backstage up and running. Ha dei componenti di esempio che il pacchetto di command line mi ha già fornito. Posso già andare a vedere che cosa c'è qua dentro, il grafico dei componenti, il catalogo con questo example backstage. Naturalmente vedo un po' di tab, sono tutti vuoti perché dovrò riempire io questi buchi, no? Sono un po' di esempi per vedere come ci si muove. Questo è un esempio di API, per esempio, un API GRPC. C'è anche, vedete, una tabella di provider. Insomma, sto già iniziando a capire che cosa potrebbe essere e ma soprattutto ho risposto alla prima issue del mio CTO che mi chiedeva di avere Backstage up and running. Eccolo qua, Backstage è effettivamente up and running. Che cos'ho con questa installazione? Niente, praticamente niente. Cioè, ho, certo, ho la core platform. Ho la core platform che è questo back-end node con un database SQLite e ho il front-end in React. Dopo ho un po' di componenti di esempio che mi danno un'idea di come funzioni. Ho il plug-in system già funzionante. Ricordo anche che i plug-in sono isolati, nel senso che tra di loro non comunicano direttamente ma vanno sempre a fare richiesta HTTP al back-end di Backstage. Poi ogni richiesta ritorna e funziona tutto così, ok? Quindi tutti, nessuno può avere accesso direttamente agli altri ma passano tutti da un server centrale. Quindi c'è anche un occhio alla sicurezza e all'isolamento. Poi ho un po' di file di configurazione in YAMO. Naturalmente. Ora, per rendere questa roba utile in qualche modo al mio team la devo integrare, devo integrarla con i miei servizi. Quindi andiamo avanti. Ah, qui voglio fare un po' una mappa della mia piattaforma. Vediamo come cresce. Adesso ho solo Backstage, l'ho buttato lì in mezzo, non serve a niente, ma vedremo come crescerà nel tempo. Quindi, la seconda issue inizia a essere un pochino più interessante perché ho uno Spark Fabric dev, quindi un membro del mio team, che mi dice che vorrebbe che l'app React, la sua app React, questo frontend in React, fosse parte del catalogo di Backstage, così che può gestirla, può monitorarla, può fare un boarding di nuovi dev. Quindi, benissimo, abbiamo già questo task di integrare. Ci arriva, di soppiatto, arriva anche un DevOps engineer che dice aspetta, ho visto che Backstage ha SQLite di default, però io vorrei un database relazionale, vorrei che questi dati che Backstage ha fossero persistiti, così lo possiamo gestire noi nel nostro toolchain, con i backup, eccetera. Va benissimo. Allora, noi cercheremo di rispondere a questa issue con queste due richieste. Oh, innanzitutto andiamo a studiare un attimino che cos'è questo catalog di cui si parla, in cui dovrebbe entrare la nostra app React. Fondamentalmente è questo sistema centralizzato che ci permette di avere una overview di tutti i nostri componenti, per vedere la ownership, per vedere dei metadati che descrivano i componenti e le loro relazioni. Questi metadati, poi lo vedremo, sono fondamentalmente dei file YAML. E quindi noi possiamo avere una vista unificata ad alto livello dei servizi, librerie, dei siti, qui dice anche proprio di machine learning models, insomma di qualunque cosa noi entri a far parte dell'ecosistema del nostro team. Quindi la parola chiave qua è discoverability. Vogliamo avere un overview e vogliamo che sia discoverable. Benissimo. Andiamo, seguendo sempre la documentazione, a fare queste azioni. Innanzitutto voglio installare e configurare Postgres, quindi mi tiro giù un container, il container ufficiale di Postgres, lo lancio, a questo punto ho un DB Postgres che sta girando, cambio, voglio cambiare la configurazione di Backstage in modo che sfrutti questo database, quindi vedete che cambio la configurazione del database da SQLite a Postgres, con questa password molto solida, basta, questa configurazione già è sufficiente per connettere Backstage a Postgres, al mio DB Postgres. A questo punto rilancio i servizi. Prima con YarnDev li lanciavo insieme, adesso lancio separatamente Backend e Frontend, che è poi lo scenario che avrete nel vostro cluster, insomma, lo scenario più comune, quindi Backend lanciato da solo, Frontend lanciato da solo, quindi qua con YarnStart, come vi aspettereste, lancio il Frontend React. Parto, ed ecco che come prima, torno sul mio catalog, qui però è collegato a Postgres. Ecco, vedete qua, che ho un, stop un attimo, qui ho il mio repo, torno un attimo indietro, qui ho il repo della mia applicazione React, quindi io voglio integrare questa applicazione, che è CI React Demo, voglio che questa app sia parte del catalogo di Backstage, e poi, voglio creare un file YAML, che mi dia i metadati, di questa applicazione, e integrare nel catalog, perché per integrare un componente nel catalog, bisogna creare questo file catalog, e darglielo in pasto a Backstage. Come posso fare per fare questo? La documentazione di Backstage mi dice che dovrei creare questi metadati, e metterli direttamente nel repo della mia applicazione, del mio progetto. Però ho anche un'altra possibilità, cioè di metterlo in un altro repo esternamente, o da un'altra parte in un file system, dove mi pare, posso metterlo, basta che poi linki questa cosa a Backstage. Io ho scelto la seconda via, cioè di creare un nuovo repository, e mettere qui dentro i metadati, e la documentazione che poi vedremo del progetto. Normalmente però lo farei insieme, non volevo soltanto inquinare i miei repo di demo, ma lo posso fare anche così. Vado avanti, vediamo che cos'è questo file catalog YAML, fondamentalmente vedete, è questo file qua che contiene un po' di metadati, zoom un po', vedete che ha un po' di descrizioni di che cos'è il mio componente, ha un nome, React frontend, ha una piccola description, ha un po' di annotation che mi dicono a cosa è collegato, in questo caso al repo GitHub, un link, vedi dei tag, un link che mi può essere utile da specificare direttamente dentro il mio catalog, e poi un po' di altri, un po' di altre, eccolo qua, un po' di altri metadati. Vado avanti, scusate, che qua mi sembra bassa la risoluzione, no, è buona, ok, quindi questo è il mio catalog, a questo punto lo voglio integrare, vado a creare un nuovo componente, vedete che ho fatto register new component, quindi io dal catalog, quando vado a fare create, mi dà la possibilità di registrare un componente esistente, perché il mio frontend react è esistente, quindi vado a fare register new component, gli metto il link del mio file YAML del catalogo che vedevamo prima, quindi proprio il link al file YAML, backstage se lo legge, se lo parsa, e mi crea il componente, lo vado a vedere, eccolo qua, ho già in catalogo il mio frontend, react frontend, con tutti i metadati che ho scritto nello YAML, come me lo aspetto, con il link alla source, vedete che ho source location, quindi ho un view source, qua direttamente nel componente, che posso andare a vedere, per andare a vedere il sorgente della mia app, ho un po' di tab, poi vedete una cosa interessante, sul mio repo ho delle action, naturalmente ho le pipeline della mia applicazione, vorrei che anche queste pipeline fossero integrate, benissimo, ho la tab CICD, loggandomi con Github, perché serve un login per questo, mi fa il fetch di tutte le mie action, e quindi qua posso anche vederle, posso rilanciarle se voglio, quindi ho anche un overview delle action del progetto, dipende se per adesso è vuoto, poi ho una tab di doc, che per adesso non vediamo, ho anche il link di frontend, che mi sono messo nei metadati, per vedere, questo è il frontend della mia app, che può essere mi utile, posso mettere quanti link voglio naturalmente, quindi ecco ho aggiunto il componente al catalog, e ho tutti i dati che possono servire per vederlo, vedete che ho anche l'owner, ho messo anche l'owner di questo progetto, ho messo il tag, l'owner mi può servire per vedere per esempio, chi è appunto l'owner di questo progetto, questo è il fantomatico gruppo devs, di cui i membri per adesso c'è solo uno, che è questo frontend lead, però immaginate in un contesto molto ampio, dove ho tanti team e tanti progetti, posso andare a vedere chi è in carico, chi è responsabile di un progetto, chi di un altro, e insomma andare poi a chiedere direttamente alle persone responsabili, sono piccole cose utili anche queste. Allora, a questo punto ho ampliato un po' la mia mappa, la mia mappa della mia piattaforma, perché adesso ho messo questo componente in backstage, collegato con il DB Postgres, e il mio componente è collegato a questo GitHub repo con la sua CISD. Molto bene, ho risposto alla richiesta del mio team, del mio dev, e anche la richiesta del DevOps che voleva il DB Postgres, siamo molto contenti. Adesso arriva un'altra richiesta, la terza issue. Lo SparkFabricDev mi dice, bene, adesso vorrei collegare anche la documentazione tecnica di questo progetto, così possiamo accedere dal nostro agente. Io già sapevo che dovevo linkare la documentazione tecnica, quindi sarà molto facile, perché c'è una notation da fare, l'avevate già intravista, e ci colleghiamo direttamente la doc. Però arriva anche il Technical Writer di Spark e mi dice, benissimo, visto che colleghi la doc, dammi anche modo magari di editarla direttamente, così poi non ho più scuse, quando devo aggiungere, devo fare update della doc, non ho più scuse, perché sono a un click di distanza, e posso modificare direttamente. Va bene, noi risponderemo a tutte queste esigenze del nostro team. Partiamo proprio dall'integrazione della doc, che è super facile. La doc, se vi ricordate, vive già in un altro repo. Quindi cosa faccio? Vado a editare il file del mio catalog, i metadati, cambio, pausa, cambio l'annotation tech doc ref, perché ho voluto mettere la doc in un altro repo, altrimenti se la sarebbe presa dalla root del progetto. Di default lui se la prende dalla root del progetto, infatti prima c'era il punto, per dire che la directory da quella della root, si prendeva la doc da lì. Io invece la voglio linkare in un altro repo. Una cosa che posso fare, gli do l'url del repo dove sta la documentazione. Cambio anche la description, perché è così, voglio vedere che si aggiorna il progetto anche nella description. Committo queste changes sul catalog, torno su... Vabbè, qui per farvi vedere la struttura della documentazione, questa è quella presa paro paro dalla documentazione di Backstage, dal tutorial che c'è nella documentazione di Backstage, cioè che vi dice, create un file mkdocs.yml e una cartella docs con dentro un file, e questo è già sufficiente. Vedete che il file mkdocs è molto semplice, due robe, questa è esattamente la documentazione, la cartella docs ha soltanto un index md con dentro quello che c'è la documentazione, perché? Perché sono pigro. quindi questa è la struttura della mia doc per adesso. Mi aspetto di averla linkata, faccio un refresh da Backstage del progetto, vado a vedere la tab docs, vedete che sta già fecciando qualcosa, eccolo qua, ho già la docs dentro il progetto, con il file che mi aspettavo di avere, con l'example, questo è già quello che ho scritto. Ricordate che, aspetta, ve lo faccio rivedere, ricordate che una richiesta del technical writer era anche di poter accedere in edit direttamente alla docs, eccolo lì, pulsantino di edit, siccome ho collegato con il github repo, se clicco su edit, vado in modifica dall'idee di github, direttamente sul file di documentazione. Naturalmente l'editor deve essere lì, loggato su github, per poter accedere in scrittura a questo file, è ovvio, però una volta che c'è, basta cliccare da lì sull'edit, s'atterra qua, adesso io ho fatto l'esempio con github, potevo farlo con github, con altre cose, però su github è così, arrivo, scrivo anche due cosette per vedere i cambiamenti, committo, qui non so perché non si vede l'update, comunque ho committato, rifaccio il fetch dal componente di backstage, e mi aspetto di trovare la documentazione aggiornata, andiamo a vedere, andiamo su docs, si sta rinfrescando, refresh, eccolo qua, documentazione aggiornata, con anche un bel table of contents, perché ho messo l'h3 in mk docs, e vedete che posso anche andare su view tech docs, dall'esempio, che mi porta, a la view della doc di backstage, che è ancora più completa, posso anche avere un search, vedete per esempio, se io qua adesso cerco, una parola che so di aver scritto, mi arriva già il documento, è già stato indicizzato, praticamente, ho già il documento indicizzato, e voilà, questa era la documentazione, quanto ci ho messo a integrarla, la durata di questo video, praticamente due minuti, poi naturalmente, devo anche scrivere la documentazione, però, se ce l'avessi, l'integrazione è super super veloce, per ora, sta tutto andando, secondo i piani, e secondo le promesse, della documentazione di backstage, questa è per adesso, la mappa della mia piattaforma, quindi ho aggiunto, questo puntino, sulla technical documentation, che si collega, al mio componente react, e alla guitar repo, naturalmente sta, nel guitar repo, benissimo, oh, arriva la quarta issue, bisogna fare bootstrap, di un nuovo progetto node, perché naturalmente, io adesso ho un frontend, però il mio progetto, è appena partito, abbiamo già il frontend messo in piedi, serve mettere in piedi, un API, un backend, e a occuparsi, del bootstrap di questo progetto, è il junior dev, di Spark Fabric, che è appena arrivato, ancora non sa bene, quali sono le nostre backstrap, quali sono le cose, quindi mi dice, il mio problema è questo, io voglio creare, un nuovo progetto node, nel contesto di questa app, che abbia un servizio, un API, insomma, il servizio API, però naturalmente, deve essere, linkata, e già con, le pratiche, del team, predisposte dal team, quindi anche lo scaffoglio, di questo nuovo progetto, il templating, lo starter kit, vogliamo dire, di questo progetto, deve essere in qualche modo, già approvato, dal mio team, e questa cosa, la posso fare, con backstage, vediamo come, ce lo dice, naturalmente, la documentazione, quando io faccio create, avete visto che prima, quando ho creato, ho importato, la mia app React, ho fatto resistor existing component, qui invece andrò, a creare un nuovo componente, basandomi su un template, anche nel talk di David, prima menzionava i template, e menzionava il fatto, che i template, fossero customizzabili, naturalmente, secondo le esigenze, della tua organizzazione, del tuo team, quindi, ti puoi creare i template, per fare scaffolding, di app, come meglio, ti servono nel team, e backstage, di default, ti dà già dei template, da cui partire, di base, oltre naturalmente, a quelli che ti puoi scaricare, da altri plugin, da backstage stesso, o da terze parti, per fare starter kit, di nuove app, ora io, in questo caso, nell'installazione, iniziale di backstage, ho un template, di base, per un'app, Node.js, mi basta questo, non sono voluto andare oltre, mi basta avere questo template, ma sappiate che, naturalmente, sono configurabili, quindi, invece di registrare, un componente esistente, scelgo, di creare un'app, con questo template, Node.js, quindi scelgo, do un nome, al mio componente, lo chiamo test component, perché ho fantasia, dico che l'owner sono io, questo è il mio utente, GitHub, e do anche il nome, del repository, perché voglio che crei il repository, naturalmente, per fare scaffolding, quindi creo, e qui backstage, sta andando a creare, il repo su GitHub, con la struttura del template, che gli ho dato io, che aveva in questo template, vado a vedere questo test component, già pronto, eccolo qua, è un servizio, clicco sulla view source, mi porta già al source, vedete, test component, creato su GitHub, da scaffolder, qui, naturalmente, è molto povero ancora, questo componente, però, tutto è vuoto, tutto devo riempirlo, però, se io avessi un template, già più fornito, avrei uno starter kit, per un'app di node, magari più complessa di questo, con un console log, il junior developer, con un click, e dandogli qualche info, ha fatto bootstrap, di un nuovo progetto, e l'ha inserito, nel catalogo, nel mio, nel mio company catalog, molto semplicemente, quindi, a questo punto, la mappa, della mia piattaforma, vede un componente in più, un progetto node API, collegato al suo, GitHub repo, tutto qua, con pochissimi passaggi, un secondo, bevo un po' d'acqua, e poi torno. Ok, a questo punto, che abbiamo questi due progetti, diciamo, up and running, inseriti nel catalog, arriva una richiesta, in attesa, ma, non tanto in attesa, se avete seguito anche, il talk di Daniele, sullo shift left, si vuole aggiungere, qualche feature di sicurezza, in quanto meno, una, una, una osservazione, dello stato della security, del nostro progetto, e questo, Smart Fabric Dev, che tra l'altro, è anche dentro OpenSSF, quindi segue, i dettami, della, della security, di OpenSSF, ci dice che vorrebbe vedere, il report, degli scan di security, direttamente dentro backstage, nel nostro, componente React, così che può vedere, può monitorare, può migliorare, la sicurezza generale, e io so, e se avete seguito anche, il talk di David di prima, sapete, che c'è questo, marketplace, di plugin, cioè io posso aggiungere, a backstage, posso estendere, le sue funzionalità, con dei plugin, e questo è anche proprio, il potere dell'open source, ho un sacco di plugin disponibili, alcuni me li da backstage, il team di backstage, me li fornisce, altri me li forniscono, team di terze parti, che hanno creato dei plugin, e li hanno messi, a disposizione della community, quindi io vado sul plugin directory, cerco il plugin, che mi interessa, e seguo le semplicissime, davvero, gli semplicissimi step, per installare, e integrare un plugin, all'interno del mio, del mio, del mio, developer portal, quindi, ricordando che il mio obiettivo, è collegare, i report di security, open SSF, dell'app, su GitHub, dentro backstage, vado e inizio, cercando il plugin che mi serve, e installandolo, casualmente, il plugin che mi serve, è generato, è stato creato, proprio da Rodi, questo, è così, è successo per caso, non è vero ovviamente, Rodi ha creato, un bel plugin, per collegarsi, con i report di security, di GitHub, e per installare, e configurare il plugin, il plugin, basta che faccio, uno yarn add, dalla cartella, dei packages app, della mia, della mia applicazione, installa tutto, naturalmente, tutte le sue dipendenze, a questo punto, edito, il codice della mia app, come lo edito? Seguendo sempre la documentazione, la documentazione del plugin, mi dice di andare a modificare, entity page, se voglio, aggiungere, la rotta, di questo plugin, nelle tab, del mio componente, mi basta andare a modificare, entity page, e mettere, il path, del plugin, qua quindi lo vado a editare, ho anche sbagliato, il punto, ma è più su, eccolo qua, dentro entity layout, vado ad aggiungere questa rotta, vedete che la rotta, è semplicemente il path, del plugin, il plugin si chiama security insights, quindi il path, è security insights, e crea una nuova root, e la aggiungiamo, all'entity layout, dei componenti, questo si può aggiungere, su tutti i tipi di componenti, del catalogo di backstage, quindi ho aggiunto questa rotta, ed ecco come mi aspettavo, che è apparso un nuovo tab, dentro il componente react, questo tab si chiama security insights, perché era il title, del tab, che ho dato in entity layout, mi richiede un login a github, perché va a prendersi le cose, e però mi dice, aspetta, sono collegato, ma non c'è niente in github, sì perché devo ancora configurare, il security scan in github, lo vado a configurare, cerco openssf scorecard, eccolo qua, così lo voglio integrare direttamente, quindi configurare scorecard in github, sono due click, quindi configuro scorecard, committo questo, questo yaml, naturalmente bypassando le mie policy di sicurezza, quindi vado direttamente a committare sul main branch, c'è poi un action che deployerà questo file scorecard di aml sul mio branch, main, a questo punto, su security insights, eccolo qua, mi fa il fetch, con tutte le issue, che riguardano le mie policy di security, su ognuna posso fare dismiss, naturalmente adesso sono tutti errori, perché non ho fatto ancora niente su questo progetto, però naturalmente hai un overview, e puoi andare direttamente a vedere quali sono le security policy, e quali sono le security issues, che in questo caso scorecard mi sta segnalando, naturalmente vale per tutti i plugin di code scanning, che posso mettere su github, quindi con questo plugin di rodi, ho accesso, ho aggiunto la funzionalità dell'accesso ai security scan, ai security insights, ai code scan di github, quindi olè, ho risposto anche alla domanda del mio, del mio, del mio dev, che chiedeva appunto di aggiungere un, il security scan al mio repo, adesso a questo punto, la mia documentazione, la mia piattaforma ha questa mappa, ho aggiunto anche code scan, qui adesso ho evidenziato in blu, quali sono i componenti che fanno parte di backstage, per farvi rendere conto di, che cosa c'è davvero di, diciamo di backstage, di nativo backstage in questo caso, cioè due componenti, l'app react e il progetto node, e il plugin security insights, è anche tardino, vado avanti veloce, arriva un'altra issue, bisogna aggiungere a questo punto, gli API endpoints nella app node, perché naturalmente così com'è non fa niente, fa un console log, dobbiamo mettere gli API endpoints, e dobbiamo anche linkare, questa app node, al componente di react frontend, così vediamo i collegamenti, quindi vediamo la documentazione, quali sono questi endpoints, e li colleghiamo anche, colleghiamo le due app, così vediamo il grafico di collegamento, tra queste app, benissimo, partiamo, andiamo prima di tutto, a scrivere questi endpoints, sono molto semplicemente, sono andato ad editare, nel mio test component, gli ho aggiunto express, come vedete, e gli ho aggiunto qualche endpoint, quindi status, in get, create testing post, questo endpoint, io li documenterò, in open API, e questo vedete che, questo qua, è il catalog info, del mio test component, quindi dell'app node, cosa faccio per aggiungere, questa parte di API, vado ad aggiungere, un nuovo servizio, in questo file, che è di tipo API, quindi vedete kind API, in questo servizio, anche qua, metadati, e poi vedete, si chiama test API, questo è il nome, test API, vedete che ha già, questo metadato, il mio test component, ha questo metadato, provides API, quindi adesso sto dicendo, backstage, che il mio componente, fornisce, questa API, che si chiama, test API, appunto, che è documentata sotto, a questo punto, ho anche dovuto, documentare, con open API, i miei end point, eccoli qua, quindi vedete, le specifiche dell'API, scritte con open API, questa definizione, che ho messo direttamente qua, o ci sono altri modi, naturalmente, per dire a questo componente, quali sono le definizioni, dei miei API, posso specificargli, un file esterno, posso specificargli, uno swagger, però in questo caso, gli ho messo direttamente, la definizione open API, dentro il metadato, quindi, che succede? ma aspetto di vedere, questa roba qua, dentro backstage, perché backstage, ha swagger, e swagger, può crearmi, appunto, tramite il frontend di swagger, posso vedere la definizione dell'API, ecco, qua, cosa importante, linko i due progetti, sono, su, sulla definizione, sui metadati, del mio react frontend, lo linko, al mio, node project, come faccio a linkarlo? aggiungo il metadato, depends on, quindi, gli dico che dipende, del componente, test component, e dico anche, che voglio consumare, l'API, test API, quindi sto dando, queste informazioni ulteriori, a backstage, vediamo un po' come backstage, interpreterà, tutte queste nuove informazioni, quindi adesso, torniamo, vabbè, devo committare naturalmente, queste modifiche, torniamo su backstage, e, vediamo un po' cosa, cosa mi dà, di nuovo, il catalogo, vedete che ho, react frontend, e test component, vado su react frontend, ecco, vedete già, che il mio grafico, delle relazioni, è cambiato, adesso ho aggiunto, queste relazioni, che prima non vedevo, quindi vedo la relazione, allargo un po', così si vede meglio, vedo la relazione, tra il frontend, e il test component, di backend, vedo anche la relazione, con l'API, quindi c'è il consumes API, che mi dice, quali sono le API, immaginate, se avessi, se avessi tanti, micro servizi qua, quanto è più facile, vedere quali sono, impattati, quali sono i componenti, impattati da una modifica, magari, In questo caso, posso avere un overview veloce, per vedere l'impatto, su vari componenti, di certe modifiche, e tra l'altro, vedete che posso andare, a vedere direttamente, la definizione dell'API, se vado nella tab API, che mi dice, quali sono le API, che sto consumando, sono test API, vado dentro test API, naturalmente, vedete anche qua, le relazioni, girate dal punto di vista, di test API, cioè chi mi sta consumando, ecco, e qua posso andare, a vedere la definition, finalmente, eccola qua, definizione swagger, con i miei due endpoint, get e post, come mi aspettavo, che ho documentato, tra l'altro qua, ho proprio uno swagger, un client swagger, quindi potrei anche fare, dei test, su queste potrei pure, testarle, provarle, queste API, direttamente da qua, naturalmente posso andare, a vedere il sorgente, di queste API, come l'ho scritto, perché è collegato a GitHub, e basta, io ho linkato insieme, back-end e front-end, ho messo definizione dell'API, ho tutto bello collegato, anche nel grafichetto, ho test API, linkato, nella lista dell'API, del mio catalogo, e ho, credo, risposto, perfettamente, alle esigenze, del mio team, che mi chiedeva, di avere, l'overview dell'API, la documentazione, delle stesse, e le relazioni, che ho, tra i vari componenti, a questo punto, io direi, di andare avanti, vedere, a cos'è arrivato, la mappa della mia platform, vedete che, si è aggiunto, questo service, che è un ulteriore componente, di backstage, con la node API definition, ho un po', rimesso, riposizionati i pezzi, così è più chiaro, vedete sempre, quali sono in blu, i componenti backstage, gli altri sono attorno, perché sono la mia, sono sulla mia, infrastruttura, e se vedete bene, questa è la mappa, della mia piattaforma, ma se io qua, togliessi tutto quello, che è backstage, o è metadato, documentazione, io qua avrei, fondamentalmente, l'architettura della mia app, cioè l'app react, il progetto node, che sono collegati, da un API endpoints, quindi vedete posso, dalla backstage, mi dà, l'overview, del mio progetto, se io tolgo tutte le sue cose, questo è quello che poi vedo, nel, nell'architettura della mia app, quindi pensate a questa roba qua, in mano a un junior, che deve essere, onbordato nel team, è super veloce, super facile, dargli un overview di progetto, mi prendo, 5 minuti, Claudio, so che mi stai guardando male, ma è arrivata, una richiesta urgentissima, è venerdì sera, da parte del cliente, che vuole roba custom, perché non gli va bene, le cose di default, che mi dà backstage, o la sua, il suo marketplace, no, naturalmente vuole la roba custom, e tutti, prima o poi, tutti riceviamo richieste, di creare qualcosa su misura, e lui vuole creare, un, una cosa custom, dentro backstage, perché, perché, perché ha sempre ragione, e, si aggiunge, si accoda, la richiesta del CFO, di Spark Fabric, che mi ha telefonato, venerdì sera, e mi ha detto che, sì, vuole ricordarsi anche lui sempre, che il cliente ha ragione, fondamentalmente, quindi, vabbè, non c'è nessun plugin, che risponde, di default, a questa esigenza, quindi lo devo creare io, per crearlo io, vado a documentarmi, su come funziona, il plugin system, di backstage, che è super facile, perché basta, un comando, yarn new, yarn new, mi darà un po' di opzioni, per chiedermi, che cosa voglio creare, e, se voglio creare, un nuovo plugin, tra l'altro, posso dargli la shortcut, select plugin, lui mi fa scaffolding, di questa struttura, che vedete sulla destra, quindi, di un nuovo plugin, con questa struttura, che vedete, alcuni, alcuni file, TypeScript, fondamentalmente, è un, è un pacchetto npm, vedete che c'ha il suo package json, perché sono isolati, questi, questi plugin, e poi, sono fondamentalmente, dei file, sono dei componenti react, e dei componenti di backend, se volete anche creare, del backend, una volta che voi installate, questo plugin così, il plugin, è immediatamente disponibile, all'indirizzo, dalla root del progetto, id del plugin, fondamentalmente, e, quindi, io, mi fido, la documentazione mi dice, che è super facile, spero di crearlo, in pochissimi minuti, quindi, cosa faccio, faccio yarn new, questa è la richiesta, che mi fa la console, gli dico che è un plugin, gli do il nome, al mio nuovo plugin, che è, is customer right, questo è il mio plugin, fa la sua solita, il suo scaffolding, vedete già, il templating, cosa sta facendo, lo yarn install, che in questo caso, è molto più veloce, perché, c'è pochissime dipendenze, finito, ah già, ho installato tutto, la doc mi dice, vai poi ad aggiungere alcune cose, nei tuoi file, vedete che, nel package json, della mia app backstage, mi ha aggiunto, questa entry, internal, plugin is customer right, che è il mio plugin, quindi me l'ha già aggiunto, lui già installato, vedete che sotto, c'è anche il plugin, security insights, di, 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 aggiungere, la entry, del mio, del mio plugin, devo aggiungere naturalmente, al codice, della mia app, per vedere qualcosa, perché il mio plugin, deve fare qualcosa, e lo voglio vedere, quindi lancio il backend, e, e a questo punto, andrò a modificare, il codice dell'app, ah, intanto, voglio modificare, il codice del plugin, perché qua, ha dato solo scaffolding, di cose base, non c'è niente dentro, se non alcuni esempi, quindi voglio andare, dentro il plugin, e voglio editare il template, per fargli fare qualcosa, per fargli dire qualcosa, vedete che dentro, ho dei componenti, c'è example component, sono fondamentalmente, dei componenti react, quindi posso andare, a modificare il componente react, questo è il example component, quindi il componente react, del mio plugin, lo edito, quindi vado a scrivere logica, che voglio fare, voglio far fare al mio plugin, voglio fargli fare della logica, naturalmente questo sono io, che scrivo react, non così veloce normalmente, però, questa è logica react, faccio use state, giusto per far vedere, che si può fare, il cambio il title, metto una variabile, dentro l'output del template, siamo a posto, a questo punto, come ho fatto per security insights, vado in entity layout, e aggiungo la rotta, is customer right, al mio componente, quindi mi aspetto adesso, di andare nel componente, e di vedere un nuovo tab, con la risposta, a questa domanda, is customer right, vediamo, aggiorno, backstage, vado in react front end, aggiorniamo, si allarghiamo un po', che è più bello, vado su react front end, eccolo lì, is customer right, vediamo la risposta, yes, era quello che ci aspettavamo, insomma, quindi, ho risposto, anche alle esigenze, del CFO, del venerdì sera, il CFO è molto contento, mi chiama festante, io, vi ringrazio, di avermi seguito, in questo talk, spero che sia stato, utile, insomma, per vedere, quanto sia facile, arrivare da zero a, non dico cento, trentacinque, con backstage, però con delle cose già configurate, io sono Edo, sono Devrel, in Spark Fabric, quindi se avete bisogno di cose di lavoro, contattatemi alla mia mail Spark, ecco, e invece mi trovate anche sui social, il mio handle è Edodusi, quasi dappertutto, faccio anche delle cosette sui, in podcast, quindi mi trovate su YouTube e Spotify, se vi piace come racconto le cose, delle volte un pochino meno velocemente, mi trovate in podcast, non dimenticate anche Claudio, tu lo sai bene, che abbiamo un podcastino in Spark, che si chiama Continuous Delivery, quindi ogni due settimane, ci trovate al martedì, anche con Continuous Delivery, ho finito, grazie. Grazie Edo, e abbiamo un paio di domande per te, no, non erano previste, ho cercato di andare in fondo, sono previste lo stesso, anche perché arrivano dal nostro CTO, quindi adesso te le becchiamo, ok, il refresh dei componenti può essere schedulato e automatizzato da GitHub, GitLab. Il refresh dei componenti dell'interfaccia? Sì, non lo so, non lo so, mi coglia impreparato, non lo so, immagino di sì, perché ogni volta che, ogni volta che fai ripartire l'interfaccia, si riaggiornano, quindi immagino che ci sia anche un command line per farla ripartire, però sono impreparato, non lo so. Non il refresh della user interface, ci dice Paolo, il refresh dei componenti collegati nel catalogo, immagino. Eh, no, capito, 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 sì, quando noi aggiorniamo i metadati, vogliamo, per esempio, aggiungiamo nuova doc, vogliamo che sia rinfrescata, non lo so, non lo so davvero, immagino di sì, ma non lo so. Provate a chiedere, no, non vi dico a chi provare a chiedere, e poi chiedeva, si chiedeva soprattutto, non chiedeva specificamente a te, ma si chiedeva se i plugin possono essere sviluppati in altri linguaggi e poi integrati via API. In altri linguaggi addirittura? Cioè non in TypeScript? Beh, via API certo, cioè naturalmente tu puoi sviluppare quello che ti pare, puoi sviluppare l'API che ti pare, e poi attraverso un plugin front-end di backstage, fare delle richieste fetch, prendere i dati e elaborarli. In questo caso sì, se invece vuoi scrivere un plugin, proprio un plugin backstage, in un altro linguaggio, ancora no, nel senso che backstage legge soltanto plugin TypeScript, JavaScript, quindi è solo quello. Tra l'altro, su questo ti posso anche aggiungere che, se voi andate a vedere una documentazione di backstage per creare plugin, adesso voi vi trovate come fare plugin, appunto in TypeScript naturalmente, ma se vi scrollate un po' di più, in fondo in fondo, c'è un New Backend System, che io volevo anche portare in questa demo, ma non avevo tempo di farlo, e in questo devo ringraziare tra l'altro Vincenzo Scamporlino, che è attuale engineer in Spotify e maintainer di backstage, e anche Francesco Corti che mi ha poi introdotto, ma va bene, che mi hanno indirizzato anche a questa novità. Vi consiglio di andare a vederla, si chiama New Backend System, è un nuovo modo per creare plugin backend in backstage, è ancora in alfa, quindi non è stable, però molti plugin di terza parte già lo usano, quindi se voi state iniziando a creare un plugin oggi, probabilmente il modo migliore per farlo è partire già con il nuovo backend system in backstage, quindi nella documentazione in fondo trovate New Backend System e partite da lì. Ecco, volevo aggiungere questo. Comunque proprio Francesco Corti e anche Francesco Benigno ci fanno sapere che c'è un cron che fa il refresh dei componenti. Bravo Francesco, volevo dire chiedete a Francesco Corti, ma non ho avuto, ecco, non mi sono permesso, ma visto che c'è Francesco Corti, bravo, grazie, chiedete a lui che ne sa più di me. Bene, grazie Edo per il talk su backstage, io rinviterei Giulia per la chiusura della giornata. grazie Edo per il tuo Grazie a tutti.